Certo dottoressa, come mai allora è così caro a molti fumatori il fumare da non poterne farne a meno? Ma perché loro pensano che fumare in realtà dia loro un conforto. Che cosa dai in più al fumatore la sigaretta? In realtà porta tutto via, però il fumatore attraverso tutta una serie di messaggi, e questa è una cosa che viene chiarita con la lettura del libro o con la partecipazione al seminario, il fumatore è cresciuto in una società che gli ha inculcato l'idea che fumare sia un piacere, sia un sostegno, sia una compagnia, gli allevi lo stress, tutte quelle valenze che ho elencato prima. Con questo metodo si arriva a capire che nulla di quel che pensavamo è in realtà vero, ma è esattamente l'opposto. Ecco, dottoressa, mi spieghi perché oggi sono soprattutto le donne che fumano e che fanno fatica a smettere di fumare. Abbiamo detto che la forza di volontà non c'entra, e quindi le donne che dicono essere forse più intelligenti degli uomini. Un momento. Allora, esistono vari metodi per smettere di fumare. Ci sono quelli che noi chiamiamo i sistemi della forza di volontà, quindi devo smettere perché mi sta ammazzando, perché ho una responsabilità verso i miei figli, quindi cerco di non fare qualcosa, o perché aspetto un bambino, quindi resisto a non fare qualcosa che però vorrei fare. Quindi diventa una specie di tragico stilicidio, prima o poi la forza di volontà crolla e la persona si mette la sigaretta in bocca e ricomincia tutto da capo. Con questo metodo, come l'ho detto prima, si arriva a non volerlo più fare, perché ci sono così tante donne che fumano. Ci sono fattori storici e sociali, cioè la donna dopo gli anni Sessanta ha cercato di essere un uomo, tra virgolette, e quindi cosa faceva l'uomo? L'uomo fumava e quindi anche lei ha preso queste informazioni del faccio una vita molto stressata, devo essere in contemporanea una persona operativa a livello di lavoro, devo essere la mamma, devo essere la moglie, devo fare questo, sono molto stressata, fumo. Ecco dottoressa, la versione a fumetti del libro abbiamo detto, lei la consiglierebbe ad un genitore che magari ha un figlio 15enne, 16enne, 17enne, e che appena ha cominciato a fumare, ovviamente la cosa di solito non desta molta gioia nei genitori. Per farlo smettere pronti via, diciamo così. Beh, senz'altro, sappiamo benissimo che non possiamo costringere soprattutto i nostri figli a fare quello che vorremmo. Quello che senz'altro si può fare è lasciare il libro in qualche posto dove può essere accessibile al giovane e probabilmente sarà incuriosito da questa cosa, preso dalle illustrazioni che sono molto simpatiche. E il messaggio è semplificato al massimo, ma è quello. Ecco, lei ha detto, insomma, si smette di fumare capendo il perché io fumo e quindi eliminando le necessità del fumo. Ma quindi, non voglio banalizzare, dottoressa, ma cosa faccio? Mi metto lì, oltre a leggere il libro e capire un po' questo metodo, dico, non fumo, non fumo perché tanto mi interessa, non ho lo stress da lavoro, è meglio che non fumo, mi sono ingrasso. È proprio questa cosa, cioè attraverso questo percorso puramente psicologico si arriva a capire che tutto quello che noi pensavamo ci arrivasse dalla sigaretta, in realtà la sigaretta non solo non ce lo dava, ce lo porta via. Quindi a questo punto si arriva a capire che fumare è semplicemente un farsi truffare e non ci si deve ripetere non devo più farmi truffare, non devo più farmi truffare, semplicemente non ci interessa più. Ma perché noi non sappiamo già che fumare è una truffa nel senso che comunque fa male? No, perché tutto quello che fuma... Sul pacchetto c'è scritto il suo fumocide, non sappiamo già queste cose. No, 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 allora ho proprio differenziato la cosa, si sposta l'attenzione del fumatore dal devo smettere perché mi ammazza e mi costa e lo si sposta sul perché lo faccio. Lo faccio perché allevia la noia, perché è una compagnia, eccetera, arrivo a spogliare la sigaretta di tutte queste valenze per cui non mi interessa più perché capisco che la sigaretta non mi dava quel che io pensavo mi desse. Come la mettiamo con gli altri metodi di cui abbiamo detto all'inizio, dottoressa, il famoso cerotto di cui si era parlato? Certo. Quelle full immersion in cliniche che dopo 15 giorni, dopo una settimana, vieni come una rosa, insomma, purificato, non fumi più. Allora, per carità, io posso solo dire che qualunque metodo aiuti le persone a smettere di fumare trova la mia piena approvazione. Come l'ho detto, io ho fumato per 21 anni, quindi ci sono stata, l'ho fatto, eccetera. Però ci sono dei metodi che lo rendono più facile e dei metodi che lo rendono più arduo. Costa fatica? C'è quel sacrificio, quello stress? No, è per questo sto appunto dicendo che non c'è bisogno della forza di volontà. Cioè è un pochino come pensare di scalare il Monte Rosa con i patini a rotelle. Certo che uno prima o poi può anche farcela, no? Però magari c'è una bella seggiovia che lo porta su. Diciamo che questa è l'asseggiovia che porta sul Monte Rosa. Ecco, dottoressa, in chiusura, con il vostro metodo c'è poi una alta o bassa percentuale di ricadute nel fumo? Allora, noi sul libro il fatto che abbia venduto questo numero di copie testimonia che funzioni, perché noi non facciamo pubblicità e funziona col passaparola. Le statistiche le possiamo fare sui seminari, perché questo metodo è accessibile non solo attraverso la lettura del libro, ma anche sui seminari che noi teniamo. La maggior parte delle persone smette alla fine del primo seminario che dura mezza giornata e offriamo anche una garanzia di rimborso. Sulla base della richiesta di... Addirittura garanzia di rimborso? Sì, se una persona non riesce a smettere di fumare nell'arco di tre mesi, restituiamo tutti i danari. E le persone che hanno sentito necessario richiedere il rimborso sono praticamente il 5%. Quindi è veramente ridicolo. Allora, ringraziamo la dottoressa Cesati per averci introdotto a questo metodo Easy Way per smettere di fumare. Se siete dei fumatori e volete tentare in questa impresa, è facile smettere di fumare se sai come farlo, oppure anche nella versione, diciamo così, a fumetti. Quindi provateci, insomma, non fumo. Provateci. Grazie dottoressa Cesati. Grazie a voi. Buon proseguimento di serata.